Odi e tamo è l'effetto che la lingua latina fa ad ogni studente che si accinge a studiarla, diviso tra il fascino che indubbiamente essa esercita e le inevitabili difficoltà nel doverla apprendere. Lo sa bene Gianluca Sinibaldi, un ingegnere quarantenne di Roma per il quale nel periodo del liceo il latino ha sempre rappresentato un vero incubo. È per questo che a 25 anni di distanza ha deciso di correre in aiuto di tutti coloro che quando si trovano davanti ad una versione non sanno neanche da che parte iniziare. Non sarebbe il massimo se invece apprendere il latino risultasse divertente al pari di un gioco? Con questa idea Gianluca ha creato Ludus, un metodo moderno per imparare una lingua antica. Ludus infatti è un'applicazione per smartphone scaricabile sia da App Store che da Google Play che trasforma il noioso apprendimento della lingua latina fatto sui libri in una divertente esperienza al passo con le nuove tecnologie. Ma come funziona Ludus? Il gioco consiste nel ricreare la frase corretta trascinando le diverse componenti nel giusto ordine, esercitando così la propria capacità di eseguire correttamente l'analisi logica di una proposizione. Se si sbaglia, l'app reagisce esattamente come un insegnante, indicando l'errore commesso e dando consigli allo studente in modo che possa autocorreggersi ed imparare dai propri errori. Ad ogni frase riposizionata correttamente nel minor tempo possibile, corrisponde un determinato punteggio e ovviamente lo stesso vale per le frasi errate. L'obiettivo? Sfidare i propri amici e cercare di ottenere punteggi più alti rispetto ai loro, sviluppando nella competizione le proprie capacità di apprendere il latino e comprenderne le diverse parti del discorso.